7 per 8 Partita la batteria con Merlini e Romano Vediamo l'atleta della Padernese in testa Si lancia sulla curva che lo immette sul rettilineo d'arrivo E va a chiudere in 18 e 76 20 e 17 invece il tempo Partita regolarmente questa prima batteria Merlini e Falaschi Merlini e Falaschi eccoli transitare ora sulla passaggio ai 100 metri Sembra leggermente in vantaggio Merlini Ma vediamo come vanno a chiudere Merlini 18 e 73 Falaschi 18 e 97